Salve del Modigliano, tu ci nutri con la luce del Natale, sei per noi lo stello del mattino. Con questa convinta adesione, grati, le assicuriamo il sostegno della nostra preghiera, del nostro affetto e del nostro servizio ministeriale. Grazie. Ringrazio vostra eminenza per questo saluto e anche complimenti per il lavoro di questa Assemblea. Grazie tante a tutti voi. Io sono sicuro che il lavoro è stato forte, perché voi avete tanti compiti. Primo, la Chiesa in Italia, tutti. Il dialogo con le istituzioni culturali, sociali, politiche, che è un compito vostro e non è facile. Anche il lavoro di fare forte le conferenze regionali, perché siano la voce di tutte le regioni, tanto diverse. E quello è bello. E anche il lavoro, io so che c'è una commissione, di ridurre un po' il numero delle diocesi tanto pesante. Non è facile, ma c'è una commissione per questo. e la conferenza episcopale va avanti. Con questo dialogo che ho detto al principio, con le istituzioni culturali, sociali, politiche, che cosa vostre. Avanti, eminenza. Avanti. Grazie.